Ciao a tutti, oggi ci troviamo al DO e siamo venuti a consegnare il nostro invito ad uno chef davvero speciale che è qui con noi. Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Ecco a te il tuo invito. Grazie dell'invito e naturalmente invito tutti a partecipare allo Shopping with the Stars il primo dicembre 2012 presso il Fidenza Village Chic Outlet Shopping insieme per sensibilizzare sull'HIV Aiz. Tu ci sarai? Ci sarò sicuramente e invito tutti quanti a partecipare. Vi ricordiamo inoltre che tutto il ricavato sarà devoluto a Nanlites Lombardia quindi come dico sempre siateci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.